20 società sportive e molte attività per il rilancio e la diffusione dello sport su tutto il territorio comunale il 17 giugno al parco fluviale va in scena la festa dello sport di lucca un evento fortemente sostenuto dall'assessore fabio barzanti lo scenario del parco fluviale polmone verde della città il luogo privilegiato per lo sport all'aperto è stato scelto anche per i progetti futuri dell'area abbiamo voluto riproporre una festa dello sport fatta dall'amministrazione comunale viene fatta parco fluviale per alcuni motivi perché intanto abbiamo intenzione di come anche la progettazione del masterplan ha evidenziato di rivalorizzare il parco fluviale di riportare lucchesi al parco fluviale quindi quale miglior diciamo così veicolo che non lo sport in un punto che sarà collegamento fra quella che abbiamo immaginato come la città dello sport alle tagliate e quella che diverrà definitiva dopo la conclusione dei lavori del PNRR alla zona dell'acquedotto Sabato 17 giugno dalle 10 alle 18 sarà possibile partecipare a numerose attività sportive basket ciclismo arti marziali patinaggio rafting ginnastica ritmica e molto altro Grazie a tutti